Ciao a tutti e ben ritornati. Un breve video sull'oro che sto facendo per la 27esima volta perché mi si è sempre bloccato tutto. Allora, vediamo un po' se ci riusciamo. Siamo il 18 luglio e l'oro ha superato quota 2.500 dollari l'oncia. Attenzione, non siamo sul future che scade ad agosto, dato che adesso siamo a luglio, ma su quello che scade ad ottobre, quindi un future meno liquido e quindi più propenso a movimenti più repentini rispetto alla sua controparte, quella che ha la scadenza più vicina e che quindi ha una liquidità più alta. Bene, comunque lo scopo del video è quello di indicare il fatto che abbiamo superato i 2.500 dollari l'oncia. Infatti il massimo di oggi è stato 2.502,60. Anche se, in realtà, se vado a ieri, ovvero 17 luglio, abbiamo superato i 2.513 dollari l'oncia. ha fatto un tipo un triplo massimo, anche se poi in realtà uno è stato più basso rispetto agli altri. Comunque ha cercato di superare, di stare sopra questi 2.500. Poi è risceso, oggi ci ha riprovato cercando di tagliare di nuovo sopra i 2.500, ce l'ha fatta scagliarli sopra e poi dopo le vendite sono state molto alte e quindi dopo è ritornato giù. E va bene, abbiamo un meno 0,02%, una cifra abbastanza irrisoria. Comunque lo scopo qual è di questo video? Il fatto che l'oro, nonostante tutto, sta continuando ad aumentare. E sta aumentando nonostante che l'azionario va bene, perché molte borse in questo periodo, diciamo giugno, luglio e anche un po' prima, stanno toccando sempre nuovi massimi. Quindi, diciamo che la parte azionaria non è che è in sofferenza, in maniera particolare, da giustificare il fatto dell'aumento dell'oro in questo modo, perché di solito l'oro è un bene rifugio, come anche magari valute molto stabili, dove di solito si va quando le cose vanno male, non quando le cose vanno bene. Quindi, insomma, c'è un po' da... Mi metto un po' di preoccupazione in questa situazione. E' vero che è noto, diciamo, che la banca centrale cinese sta comprando tantissimo oro in questo periodo. Vuoi perché il suo mercato interno ha delle situazioni un po' tragiche? Vuoi perché la situazione nel Pacifico si sta rivelando sempre più complicata? Comunque, loro stanno comprando tantissimo oro. Però, se sono solo loro che riescono a far aumentare così il valore, io questo non lo so. Diciamo che però, il fatto che le cose vanno bene, ma l'oro aumenta così tanto, insomma, a me destra molta preoccupazione. Poi, per carità, io sono contento perché l'ho comprato quando era a 1885, e adesso è a 2005 quasi, quindi sicuramente per me va bene come discorso. Però, insomma, alla fine io preferirei che l'oro rimanesse magari più basso e si evitassero dei conflitti, ecco, onestamente, come mentalità generale. Anche perché, se andiamo a vedere, tipo così a sei mesi, arriviamo qui a, cos'è, ottobre circa, agosto 2022, dopo appin' qua, novembre 2022, eravamo intorno, qua sotto il minimo quant'è? Diciamo circa qui, 2627 dollari l'onza. Quindi, insomma, da 1625 a 25, insomma, c'è un incremento molto importante. Cosa che, tendenzialmente, l'oro, insomma, l'oro non è che è come un asset finanziario che fa delle grossi picchi e poi scende brutalmente, insomma, può avere degli alti e bassi anche un po' importanti, però, insomma, sono diluiti in un tempo parecchio lungo. Qui, invece, insomma, in pochi mesi abbiamo avuto, insomma, degli aumenti molto, molto forti che, a me, onestamente, insomma, boh. Adesso, io, onestamente, ad agosto volevo comprare altro oro, lo farò lo stesso, non è che il fatto che ho aumentato non mi impedisce di comprarlo. Ovvio, lo comprerò sui massimi, sì, tanto se rimane lì, è sui massimi, però, attualmente, è quasi sempre sui massimi, quindi, in qualunque momento lo compri, va sempre su e mi aspetto il momento in cui lo compri e poi va su. Ora, se va su senza un motivo specifico, nel senso che, magari, le cose si sistemano e lui tenderà poi a scendere perché la situazione è diventata più tranquilla e quindi è meglio che la liquidità si sposti su un qualcosa di più eccitato come l'azionario, è un conto, va bene, insomma, è una dinamica normale. Se, però, lui continua a salire e poi stabilizzarsi e, successivamente, magari, si crea un conflitto più importante, lì la situazione potrebbe essere ancora peggiore, nel senso che il suo valore potrebbe continuare ad aumentare in quanto, insomma, se una moneta inizia a perdere molto valore per il fatto di un conflitto, insomma, sicuramente ci sarà da prendere atto, insomma, di un aumento piuttosto importante. Ad ogni modo, al di là delle catastrofe, eccetera, che io non so se poi avverranno, spero mai, il concetto è che abbiamo superato i 2.500 dollari l'oncia. Quindi, io sono partito da 1.885, diciamo che intanto ho preso un buon margine per dire, anche se mi torno indietro, insomma, ho dello spazio per potermi muovere. In ogni caso, io continuerò a fare degli acquisti piano piano nel tempo, non so se comprerò un altro Krugerrand o delle sterline più piccole, vediamo un po' quello che il banco metalli mi offre. E, insomma, rimaniamo un attimo in ascolto per vedere se questi 2.500 sono semplicemente un tetto che lui prova a sbatterci la testa ma poi torna sempre indietro, oppure nelle prossime settimane prende lo buca e poi punterà di nuovo sui 2.600 dollari l'oncia. Anche perché, se continua a aumentare così, diventa sempre più difficile, insomma, iniziare a comprare monete come il Krugerrand da un'oncia, perché 1.800 è un conto, 3.000 è un altro. Quindi dopo toccare per forza basarsi molto di più su monete più piccole. Lui per Krugerrand intendo solo quello da un'oncia, non quello da mezza oncia, un decimo, eccetera, anche perché onestamente non li ho mai visti, so che ci sono, però non li ho mai visti trattati. Se poi continua anche la salita così, a un certo punto mi dovrò spostare sul lingotto, che ha, non so, lingotto da 5 grammi, a sto punto, perché inizia a diventare, insomma, una spesa abbastanza importante. 5 grammi, 10 grammi, cose così, perché è un po' più facile trovare una pezzatura adeguata a quello che è il mio potenziale di acquisto, ecco, su questo bene. Insomma, dai, questo è un po' il piccolo discorso di oggi, inerente a questo nuovo traguardo raggiunto da loro. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!